Si è parlato anche della situazione nei Balcani, devo dire, è stata grande solidarietà per i militari italiani feriti, grande apprezzamento, l'onato continuerà a essere presente nei Balcani, insomma anche i turdi inglesi pronti a rinforzare lo schieramento che già c'è, allora fosse necessario, ovviamente tutti quanti abbiamo insistito perché possa prevalere il dialogo tra Vucic e Curti, invitando naturalmente gli albanesi alla calma, non insediare i sindaci dei comuni dove sono stati sconti di attendere e di trovare un'altra sindaca.